La musica italiana Ben 75.000 fan si sono aggiudicati il biglietto per un concerto che sarà unico? Fedez sul suo profilo Instagram ripercorre le tappe musicali che lo hanno portato a conoscere, anche la sua futura moglie Chiara Ferragni. Ben 75.000 fan si sono aggiudicati. Ricordo i miei primi videoclip girati in garage, e le notti passate ad imparare i rudimenti del montaggio video per evitare di spendere soldi che allora non c'erano. Ricordo Penisola che non c'è un disco che affrontava tematiche sociali. La mia sfida era rendere interessanti delle canzoni con dei contenuti di attualità, e quel disco prodotto con 500 euro è il motivo per il quale oggi la musica è diventata il mio lavoro. Ricordo il mio primo concerto a Leoncavallo, storico centro sociale milanese, davanti a 5.000 persone che fu la mia prima grande rivincita, prima di allora non fui mai preso seriamente in considerazione ricorda ancora Fedez. Fedez. Ecco come ha conosciuto la sua futura moglie Chiara Ferragni.in un lunghissimo post su Instagram, Fedez ricorda tutti i suoi passi fatti nella musica, fino ad arrivare all'incontro, che ha cambiato la sua vita. Poi è arrivato comunistico Rolex un disco, che doveva alleggerire il peso delle aspettative sia per me che per Ax. Senza questo disco non avrei mai conosciuto la mia futura moglie e non sarei qui a scrivere questo papiro di fianco a mio f-i-g-l-i-o-a-perte virgolette scrive Fedez prossimo al matrimonio con Chiara Ferragni, mamma del loro piccolo leone. Fedez. Tutto pronto per San Siro.Manca davvero poco al concerto a San Siro e Fedez scrive. Oggi è un giorno speciale, il nostro concerto allo stadio San Siro è ufficialmente sold out, e per me è come un cerchio che si chiude. Venerdì 75.000 persone vedranno l'emozione di un ragazzo che ancora stenta a credere che tutto questo sia vero. .